ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco actigrip johnson e johnson spa ultimo aggiornamento 20 luglio 2021 cos'è actigrip confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere actigrip durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esteri cos'è actigrip actigrip è un farmaco a base del principio attivo pseudo effedrina più paracetamolo più triporolidina appartenente alla categoria degli decongestionanti e nello specifico simpatico mimetici e commercializzato in italia dall'azienda johnson e johnson spa actigrip può essere prescritto con ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco confezioni actigrip 2,5 mg barra 60 mg barra 500 mg 12 compresse informazioni commerciali sulla prescrizione titolare johnson e johnson spa ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco classe c principio attivo pseudo effedrina più paracetamolo più triporolidina gruppo terapeutico decongestionanti forma farmaceutica compressa indicazioni trattamento della sintomatologia da raffreddamento caratterizzata da ostruzione nasale rinorrea accusa cefalea e barra o febbre posologia posologia adulti una compressa 2 3 volte al giorno per un massimo di 5 giorni di terapia popolazione pediatrica ragazzi al di sopra dei 12 anni fino a 18 anni una compressa 2 3 volte al giorno per un massimo di tre giorni di terapia non superare le dosi consigliate in particolare i pazienti anziani dovranno attenersi ai dosaggi minimi sopra indicati modo di somministrazione assumere le compresse per via orale l'assunzione del farmaco deve avvenire a stomaco pieno contro indicazioni ipersensibilità ai principi attivi ad altri antistaminici ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 bambini di età inferiore ai 12 anni durante la gravidanza e l'allattamento vedere paragrafo 46 pazienti in trattamento con inibitori delle monoaminossidasi i mao o nelle due settimane successive a tale trattamento in tali casi l'uso concomitante di acti grip può causare un aumento della pressione sanguigna o crisi ipertensive vedere paragrafo 45 e nella terapia delle affezioni delle basse vie respiratorie compresa l'asma bronchiale l'associazione con farmaci simpatico mimetici indiretti alfa simpatico mimetici per via orale barra o nasale vedere paragrafo 45 interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione per i suoi effetti anticolinergici non utilizzare in caso di glaucoma nell'ipertrofia prostatica nell'ostruzione del collo vescicale nelle stenosi piloriche e duodenalio di altri tratti dell'apparato gastroenterico ed urogenitale pazienti con preesistenti malattie cardiovascolari in particolare quelli con malattie coronariche ipertensione e patologie tiroidee in pazienti con storia di ictus o che presentano fattori di rischio per l'ictus a causa dell'attività alfa simpatico mimetica del vasocostrittore epilessia diabete gravi affezioni epatiche renali i medicinali a base di paracetamolo sono controindicati nei pazienti con manifesta insufficienza della glucosio 6 fosfato di idrogenasi ed in quelli affetti da grave anemia emolitica grave insufficienza epatocellulare avvertenze speciali e precauzione di impiego l'uso di apti grip deve essere evitato se si sta già utilizzando qualsiasi altro medicinale contenente paracetamolo i soggetti che soffrono di alcolismo devono rivolgersi al proprio medico prima di assumere vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione farmaci anticoagulanti esempio barfarin l'uso concomitante di paracetamolo con anticoagulanti orali può portare a lievi variazioni dei valori di nr in questo caso i pazienti devono chiedere consiglio al medico vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere acti grip insieme ad altri farmaci come cormetto eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere acti grippe durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere acti grippe durante la gravidanza e l'allattamento acti grippe controindicato durante la gravidanza e l'allattamento vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari alle comuni dosi terapeutiche gli antistaminici presentano reazioni secondarie assai variabili da soggetto a soggetto e da composto a composto l'effetto secondario più frequente è la sedazione che può manifestarsi con sonnolenza di ciò debbono essere avvertiti coloro che possono condurre autoveicoli o attendere ad operazioni che richiedono integrità del grado di vigilanza effetti indesiderati dati provenienti da trial clinici non sono disponibili dati sufficienti a riportare le reazioni avverse di studi randomizzati controllati con placebo per la combinazione di paracetamolo pseudo e fedrina e tripolidina di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio in caso di sovradosaggio da pseudo e fedrina si osservano in genere nausea vomito spiccati effetti depressivi o stimolanti sul sistema nervoso centrale insonnia tremori mitriasi ansia agitazione allucinazioni palpitazioni tachicardia bradicardia riflessa sonnolenza letargia depressione respiratoria ipertensione irritabilità convulsioni altri effetti possono riguardare disaritmia crisi ipertensiva emoraggia intracerebrale infarto del miocardio psicosi rabdomiolisi ipocalmia infarto ischemico dell'intestino nei bambini l'azione dominante è quella eccitante con accentuati tremori sonnolenza insonnia iperattività e convulsioni pallore anoressia nausea e vomito sono di frequente i primi segni del sovradosaggio del paracetamolo la necrosi epatica è una complicazione correlata al sovradosaggio di paracetamolo gli enzimi epatici possono diventare elevati ed il tempo di protrombina prolungato in un tempo compreso tra le 12 e le 48 ore ma i segni clinici possono non manifestarsi fino al sesto giorno dall'ingestione l'alcol può potenziare l'epatossicità del sovradosaggio di paracetamolo e potrebbe aver contribuito a determinare una pancreatite acuta in un paziente che aveva assunto quantità eccessive di paracetamolo in caso di iperdosaggio il paracetamolo contenuto in acti grip può provocare citolisi epatica e può evolvere verso la necrosi massiva irreversibile tenere fuori dalla portata dei bambini in caso di sovradosaggio chiedere aiuto al medico o contattare subito un centro antiveleni gestione trasferimento immediato del paziente in ospedale prelievo di un campione di plasma per determinare il dosaggio iniziale di paracetamolo evacuazione rapida del prodotto ingerito tramite lavanda gastrica acidificare le urine somministrando cloruro di ammonio per incrementare l'eliminazione di pseudo e fedarina di solito il trattamento del sovradosaggio comprende la somministrazione nel più breve tempo possibile dell'antidoto n cetilcisteina per via induvenosa o per via orale se possibile prima della decima ora trattamento sintomatico proprietà farmacodinamiche categorie farmacoterapeutica decongestionanti nasali per uso sistemico simpatico mimetici codice atc r01 da 52 il paracetamolo possiede attività analgesiche antipiretiche non diverse da quelle dell'aspirina rispetto alla quale comunque a una più proprietà farmacocinetiche la triporolidina dopo somministrazione orale raggiunge livelli di picco in due ore circa la sua emiguita plasmatica è di circa tre ore negli adulti il picco delle concentrazioni plasmatiche della dati preclinici di sicurezza la tossicità acuta dell'associazione triporolidina pseudo e fedrina è molto simile a quella della pseudo e fedrina da sola gli effetti nell'animale comprendono stimolazione del simpatico iperattività a tassia depressione respiratoria convulsioni erezione dei elenco degli eccipienti ogni compressa contiene amido di mais pre gelatinizzato povidone cross povidone acido ostearico cellulosa micro cristallina silice colloidale anidra magnesio sterato fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato